Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'impero delle tenebre. Quest'oggi voglio fare l'unboxing di uno di quei model kit diciamo di nicchia che infatti si trova principalmente Import, un model kit dell'Alphamax in collaborazione con SkyTube che è diciamo autrice, autore o comunque realizzatore di action figure per così dire osè e quindi danno vita a quello che è un model kit o meglio vediamo qui un non scale plastic model kit viene anche definito un painted perché appunto va anche diciamo alcune parti teoricamente colorate nonostante ci siano diversi già parti precolorate come appunti model kit ma questo Kraken Dress Raina il numero 2 di questa linea è discreto più che altro appunto come vedete le sue procaci forme sono anche oggetto di alcune parti extra di questa deluxe version che vengono letteralmente censurate anche dal diciamo dalle immagini pubblicitarie del prodotto in quanto appunto nella deluxe version c'è la possibilità oltre alle facce con le espressioni extra e quella blank che francamente a me non piace tanto c'è il busto più per così dire dettagliato lo vediamo qui con appunto i dettagli che non fanno molto piacere alle mamme diciamo che appunto è un model kit per adulti è un model kit che ha anche diversi 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 decal da andare a posizionare la confezione come vedete è bella grande perché comunque al pari di diciamo delle versioni che abbiamo conosciuto già in altri unboxing tipo le megami device o appunto le frame arm girl questo model kit non solo aggiunge alle belle fattezze femminili una build una gimmick ispirata in questo caso non ai robottoni ma al mostro al kraken con i tentacoli tipici diciamo di quel tipo di animazione giapponese qua vediamo appunto la parte deluxe dettagliatissima con le faccine un po particolari come espressioni e soprattutto la cosa che in realtà è davvero bella queste ovvero le parti extra per rendere le due unit laterali luminose grazie appunto a dei led con tutto il suo impianto basta metterci poi una piccola batteria di quelle tipo orologio così da avere le parti realmente luminose questa è davvero una gran figata mentre devo ammettere che le plastiche non è che mi piacciono tantissimo infatti come avevo già notato nella chiamiamolo numero uno di questa linea per quando siano in realtà anche abbastanza dettagliate è la qualità stessa delle plastiche che non mi esalta una cosa carina che dalle foto promozionali non si capiva bene adesso andandola a vedere appunto è già più chiaro praticamente si tratta di una plastica non bianca ma perlacea come era già successo per certi gumpla che avevo realizzato e alcuni model kit di astronavi diciamo che è un tipo di plastica che lascia una finitura base buona di discreta fattura però è difficile da pannellare è difficile anche soprattutto da colorare perché a secco senza utilizzare appunto una base un primer sotto il colore non aderisce bene a queste plastiche che sono tipo gloss però appunto perlace qua invece abbiamo i dettagli diciamo di certe unit come dicevo laterali che contengono poi la parte luminosa e per questo sono semi trasparenti qua appunto l'unità led che andrà incastonata in questo blocco così poi i contatti non si rovinano ci sono qua un altro po' di dettagli extra anche qui dettagli dettagli particolari e la faccina blank anche questa è una cosa interessante qua invece abbiamo la parte poliposa extra che è anche questa molto particolare e i dettagli invece dell'armatura del kraken sono anche questi gloss però danno un effetto sicuramente meno diciamo plasticoso di alcune plastiche ad esempio della bandai che sono troppo lucide infatti dà un effetto diciamo tipo ottone tipo rame però appunto spento ma lucido quindi metallico però non eccessivo il resto del corpo del kraken invece rimarrà principalmente perlace è una scelta di design non male qui abbiamo appunto come si voleva dire le altre parti extra ed in generale ci sono più che altro queste parti extra questo è il bananone che volevamo l'extra veramente essenziale per un model kit femminile è appunto un'extra però diciamo che comunque preferisco aver preso la versione deluxe con già tutti i componenti in più soprattutto la parte led che non quello base a cui appunto poi va agganciata a parte tutto il resto e alcune cose tra l'altro non sono mi sembra disponibili singolarmente diciamo che a livello di dettagli appunto le plastiche non sono male sarà più difficile spannellarle perché appunto sono plastiche che non lasciano affecchire bene il colore le mani invece sono già in posa sono appunto come quelle delle frame armor girl con diverse tipologie e per questo già vi dico come era successo anche con appunto il primo modello e praticamente tutte le frame armor la posa diciamo per tenere in mano gli oggetti soprattutto qua avrà il martellone gigante non è efficace proprio per niente si tratta infatti di una cosa che andrà messa più che altro con un qualche appoggio o una staffa di supporto perché in realtà la mano non è minimamente in grado di reggere il peso anche se appunto vuoto magari del martello o di certe armi quindi metterle in posa poi è anche un delirio perché si staccano o appunto dopo un po' incominciano a decadere come forma qua invece abbiamo le parti azzurre dei capelli che sono discrete c'è anche bello diciamo l'effetto della treccia che mi piace è intrigante come l'hanno realizzata qua abbiamo altre parti del torace questa volta quello diciamo normale e alcune altre legate probabilmente agli snodi del corpo il fatto che il kraken sia trasformabile per così dire infatti una della build delle gimmick continuo a dire build in realtà è una gimmick il fatto appunto dell'effetto azione che ha quest'action figure questo model kit in stile action figure è appunto quello di avere la ragazza con arma e per così dire armatura che poi si ricombina per andare a creare il kraken con i tentacoli e appunto come abbiamo visto la parte extra deluxe anche qui non so infatti se si vede ci sono dei dettagli che vanno evidenziati con i marker in questo caso i marker capillari fanno il loro lavoro entrano bene nelle fenditure soprattutto perché essendo gloss scivolano bene e quindi vanno a riempire tutte le varie linee e proprio il fatto che ci siano tutti questi dettagli vanno a impreziosire un model kit come dicevo di una certa qualità qua abbiamo ancora altri pezzi dedicati all'aggancio delle armi speciali soprattutto come dicevo il martellone che tra l'altro ha una bellissima rifinitura sia come simbologia qua sulla parte diciamo del martello che l'elsa e la parte diciamo di incastro come diceva è abbastanza vuoto ma in realtà poi ha comunque un suo peso qui abbiamo un sacco di pezzi davvero davvero un bel po' di giunture di snodi per i tentacoli così da avere appunto tutta la parte come dicevo dell'armatura che può ripiegarsi ed andare a creare la gimmick della trasformazione in kraken in mostro marino per così dire da sirena a mostro con come dicevo anche qua un bel po' di dettagli in queste parti gloss bronzato che sono davvero molto molto belle in questo caso queste plastiche mi piacciono di più di quelle per così dire della bandai che con l'effetto metal gloss di solito esagera e qui invece abbiamo un un livello di qualità nettamente alto ci sono ancora una miriade di pezzi anche perché nonostante sia una marca per così dire secondaria uno spin off appunto delle action figure già prefatte a livello di componentistica e qualità non è per niente da buttare anzi si sono sbattuti un sacco nel creare una tipologia di model kit simile onestamente davvero tanto simile alla frame arms però con appunto una costruzione una build soprattutto delle parti extra dell'armatura e di tutto il resto davvero davvero ottima perché si tratta tutte di plastiche sovrapposte che come dicevo andrebbero poi rifinite soprattutto non c'è come si vede nella scatola tutte queste colorazioni rosse sono cose che andrebbero fatte a mano sono tutti dettagli che in realtà vanno scritturati o colorati comunque a parte si tratta però di una piacevole sorpresa perché non mi aspettavo così tanti pezzi non mi aspettavo così tante per così dire giunture concettualmente appunto si tratta di un kit davvero intrigante anche i gate non mi dispiacciono non sono giganteschi e solitamente le plastiche gloss si tagliano abbastanza bene a differenza di quelle placate che poi lasciano il segno quindi essendo bianche essendo comunque dei gate abbastanza sottili come si può vedere direi che l'effetto finale poi non richiede tante limature o carteggiature diciamo perciò anche senza troppi attrezzi senza troppe rifiniture post diciamo assemblaggio si può andare a realizzare un bel kit anche se devo dire che senza appunto colorare o comunque dare un po' di come dicevo marker per colorare i pezzi lasciarli solo così bianchi a naturale perde davvero tanto proprio perché i dettagli ci sono ci sono un bel po' di pezzi anche perché si tratta appunto qua un altro sono quattro tentacoli pieni di dettagli che vanno rifiniti infatti senza un bel po' di colorazione si perde gran parte dell'effetto finale le parti blu scuro sono delle plastiche abbastanza normali i gate sono posizionati in posizioni abbastanza classiche quindi non dovrebbero essere un problema a staccare e almeno con l'esperienza diciamo del primo modello devo dire che si costruisce facilmente perché appunto l'esperienza di Megami Device e Frame Arm Girl senza difficoltà hanno una discreta mobilità e un bel po' di snodi che mi permettono diverse pose pose che però senza poi un adeguato appunto un'adeguata basetta non riescono a mantenere per il fatto che purtroppo poi il kit per quanto possa sembrare piccolo è in realtà molto pesante bello denso e quindi poi alla fin fine risulta un pezzo discretamente pesante qua la parte diciamo della pelle secca o meglio della pelle lasciata al naturale è bella è discreta appunto quella colorazione per così dire in stile anime che permette alla figura una volta costruita di essere discreta nonostante appunto la si lasci magari a secco io andrò a creare giusto qualche rifinitura qua abbiamo un altro set di mani con altre pose un'altra per tenere appunto le armi abbiamo le espressioni classiche quella diciamo con lo sguardo classico quella che urla con lo sguardo di lato e soprattutto come stavo decantando da un bel po' la basetta che devo dire è un tipo di basetta questa usata dall'Alfamax rossa che appunto però fa il suo lavoro perché ha diversi bracci orientabili ha le pinze per poterle tenere in sospensione e creare appunto qualche effetto particolare e infine abbiamo qua le decal ad acqua che purtroppo non andrò a mettere perché sono un disastro almeno io sono un disastro a metterle però il fatto che ci siano faranno la gioia di molti diciamo fan qui abbiamo una quick guide appunto delle parti deluxe censurate con appunto le varie trasformazioni per così dire del corpo extra e il montaggio delle unit con i led per avere appunto la luminosità delle parti extra qui grazie alla basetta con tutti i fori e i bracci extra è possibile appunto montare in sospensione così da fare una bellissima gimmick una bella diciamo posa per questa figure davvero di ottima qualità qui infine abbiamo il manuale purtroppo completamente in giapponese cioè la classica mancolista dei pezzi però la cosa carina è che diciamo il manuale è completamente a colori quindi fa una bella figura anche per identificare magari i pezzi di una certa tipologia e sostanzialmente è semplice perché alla fin fine è molto classica la costruzione del corpo quindi non ci sono grosse problematiche o difficoltà nell'andare a realizzare questa armatura e appunto abbiamo poi tutte le parti del kraken che sono quasi tutte da fare 4x perché si tratta appunto dei tentacoli sulla schiena che vanno a creare questa unit da agganciare dietro in stile prima appunto diciamo copricabo tipo veste quando è richiusa fa anche la sua versione appunto da veste pudica per poi trasformarsi in unit d'assalto con i tentacoli spiegati per poi diventare la versione kraken effettiva la basetta appunto ha la possibilità di essere agganciata anche con altre per fare una sorta di diorama e nonostante questa foto sia palesemente ritoccata l'effetto finale può venire così infatti penso che userò dei marker rossi per dare la colorazione in profondità nei solchi così da andare a creare queste insenature con un po' invece di marker capillare nero si vanno a fare gli altri dettagli e in definitiva l'effetto finale non dovrebbe essere affatto male anzi come model kit devo dire che ha ampiamente superato le mie aspettative la qualità delle plastiche non mi dispiace gli effetti extra sono discreti perciò appunto appena avrò un po' di tempo e di energie mi ci dedicherò così da mettermi a realizzare questo model kit sicuramente per così dire alternativo ai classici gunpla che però ha il suo perché certamente esporlo con le parti extra rivediamole è un po' uno sgamo allucinante però diciamo che ha il suo perché ma soprattutto devo ammettere che mi piace un sacco l'unità led questi qua sono dei piccoli gioiellini che volendo ci si può trovare anche delle altre applicazioni ma in generale devo dire che sono davvero soddisfatto da questa crack and dress Reina infatti è uscita a dicembre del 2020 con i suoi tempi è arrivata e devo dire che non è affatto male se volete poi vedere la sua costruzione un po' di recensioni e unboxing appunto dei vari dettagli seguite il blog imperodele tenebre punto blogspot punto com così per farvi un'idea di come viene poi fuori una volta assemblata per adesso quindi io vi saluto e vi aspetto al prossimo video e vi aspetto a vi aspetto